Lo sapete la Royal Enfield Himalayan 450 è la mia moto dell'anno ma anche le classifiche di vendita dopo le prime settimane di commercializzazione iniziano a raccontare di un progetto che sta convincendo non solo me ma tanti infatti pensate si è posizionata già al terzo posto nelle classifiche di vendita generali del 2024 dietro due mostri sacri come la Benelli TRK702 e il BMW R13GS. Dopo di loro c'è lei una moto che a 6.000 euro offre veramente tantissimo più forse di quello che andate effettivamente a pagare ma come tutte le moto che siano da 6.000 euro o da 30.000 anche la Royal Enfield Himalayan non è esente da problemi e allora dopo averla provata per tanti chilometri ormai vi racconto in questo video quelli che sono secondo me i principali difetti della nuova 450. Il primo difetto se così vogliamo dire perché è un qualcosa a cui ci si abitua veramente in fretta riguarda il cavalletto laterale della nuova Himalayan che quando l'andate a appoggiare come vedete si inclina particolarmente probabilmente ripeto non è un qualcosa su cui c'è da strapparsi i cappelli anche perché ormai io usandola praticamente ogni giorno mi sono abituato a questo suo modo di inclinarsi. Tra l'altro quando si inclina raggiunge comunque una posizione piuttosto sicura anche perché il cavalletto ha un'ampia base è piuttosto aperto quindi va a creare una posizione veramente sicura a differenza di quella della 411 che non lo era affatto infatti finiva per cadere sempre dal cavalletto. Ma questo è uno dei difetti più chiacchierati sui gruppi facebook e sui forum e quindi dovevo per forza menzionarli in questo video ma vi posso dire in tutta tranquillità che non è un qualcosa di grave anche perché la moto poi come sempre ha anche il cavalletto centrale e come vedete questa è una soluzione molto più tranquilla e che risolve questo problema segnalato da molti. C'è però un difetto che reputo veramente fastidioso della nuova Himalayan ma per vederlo dovete venire da questo lato perché si parla della nuova strumentazione che è bellissima ma ha dei forti problemi con le traduzioni in questo momento. Ad esempio intanto potete notare che la traduzione è solo parziale sidestand non è stato tradotto in cavalletto e poi ad esempio qui conta e i chilometri quando doveva essere conta chilometri ovviamente o comunque odometro qualcosa di più carino di non conta. Ma non è finita qui perché anche se ci spostiamo nel menu principale come vedete abbiamo aspetto e ci siamo ma andando già dentro vedete golden line sarebbe praticamente la strumentazione il tipo di visualizzazione background luminosità tipo schermo ci siamo abbiamo anche qui conta chilometri con ten analogico insomma è difficile capire cosa intendono gli indiani ma soprattutto la cosa più buffa bassa tensione. Cos'è bassa tensione? Niente perché se entrate dentro c'è alta tensione è semplicemente il formato dell'orario 24 12 ore quindi qui è chiaro che ci sono stati dei problemi nella traduzione motivo per cui se volete un consiglio impostatela in inglese così almeno la traduzione è molto più fedele. La cosa positiva è che comunque difetti come questi sono facilmente risolvibili con un aggiornamento software del tripper dash tra l'altro ne è già arrivato uno da quando io ho in test la moto. Non ho notato grossi cambiamenti per quanto riguarda le traduzioni ma è plausibile che nei prossimi aggiornamenti Royal Enfield vada a rendere le traduzioni un po' più fedeli alla lingua italiana. Anche questo problema è un qualcosa su cui si può lavorare in fretta ma è un dato abbastanza oggettivo. La nuova 450 anche rispetto alla 411 ha delle gomme molto più stradali sono sempre dei semi tassellati ma con un disegno veramente tanto stradale. E infatti oggi su questa strada che di solito non mi ha mai dato problemi con altre gommature non per forza specialistiche con queste qui la moto era un po' per i fatti suoi. Quindi questo è un dato sicuramente da tenere a mente se valutate l'acquisto di una 450 per usarla come va usata cioè in fuoristrada sicuramente questa gommatura deve andar via il prima possibile scegliendo qualcosa di un po' più specialistico. Un altro problema sta sicuramente nella sella. Allora non fraintendetemi perché la sella della Nuoimalayan intanto ha la possibilità di essere regolata in maniera molto veloce. Ve ne ho parlato già nel test ride ma poi anche nel confronto con la 411 quindi questo è sicuramente un grosso pro a favore di questa moto. La sella del passegiro è anche piuttosto imbottita secondo me quella del pilota invece è un po' rigida. Ma ovviamente anche qui bisogna sapere cosa si sta acquistando e non parlo solo del segmento di moto ma parlo anche proprio della tipologia di moto. Questa è una vera moto da fuoristrada che quindi va a compromettere un po' il comfort. D'altronde non è una maxi enduro di dimensioni esasperate che poi per l'enduro non va bene. Questa è una maxi enduro per fare davvero enduro. Chiaramente con i ritmi di una maxi enduro non di una specialistica ma la sella di conseguenza è molto sagomata, stretta, ben scavata e di pari passo però sacrifica un po' il comfort. Quindi quando avrete problemi beh sicuramente sui lunghi trasferimenti 300, 400, 500, 600, 700 km in una giornata diciamo che qualche effetto lo avranno. Sotto questo chilometraggio comunque la sella è piuttosto comoda soprattutto se avete l'altezza giusta per piazzarla nella posizione più alta. In posizione bassa paradossalmente l'ho trovata un po' più scomoda perché ci si siede prima tra virgolette sul telaio. Un altro problema più teorico che pratico forse riguarda le protezioni del serbatoio della nuova Himalayan. Io le ho viste entrare in azione in più di un caso e solo in uno dei casi in questione ho visto anche rientrare questa protezione ed è normale che sia così perché fa proprio effetto bumper come se fosse un ausilio in fase di caduta per andare ad ammortizzare appunto il peso della moto a terra. Ma se l'impatto è importante quindi questo effetto non si realizza perché si arriva comunque a fine corsa della protezione quello che si è realizzato in una di queste circostanze è stato che la protezione rientrando avesse poi toccato il serbatoio lasciando anche dei piccoli graffi. Ecco questo per delle protezioni che sono pensate per proteggere il serbatoio diciamo che forse non è il massimo ma è comunque una situazione piuttosto rara e difficile che si realizzi perché bisogna veramente mettere insieme una serie di condizioni per cui la protezione rientra e si va a danneggiare il serbatoio. Cosa che tra l'altro succedeva anche sulla 411 che finiva proprio per ammaccarsi. Queste protezioni sembrano dare un po' di sicurezza in più. Anche questo problema è un po' cercare il pelo nell'uovo ma d'altronde dei difetti a sta moto bisogna trovarli gli specchietti visibilissimi molto bella anche la forma integrata col design della moto ma su velocità autostradali o superiori quindi parliamo comunque di velocità dai 130 in su che per un monocilindrico 450 da 40 cavalli e comunque una velocità di crociera già molto alta tendono un pochino a vibrare. Badate bene le vibrazioni sono prettamente visive per così dire. Vediamo solo lo specchietto che balla che comunque ci permette di guardare dietro ma senza mettere proprio a fuoco i dettagli di pari passo però sul manubrio di vibrazioni anche su quelle velocità ne arrivano il giusto per un monocilindrico. Certamente ci sono ma niente di grave. Ora se si va a stringere un po' lo specchietto quando si nota questo problema effettivamente la situazione migliora ma probabilmente Royal Enfield avrebbe potuto fare qualcosa di meglio per garantire un utilizzo perfetto degli specchietti anche a velocità più alte. E per ultimo mi sono lasciato quello che secondo me è davvero il difetto più fastidioso della nuova Himalayan 450 anche in questo caso però ti devi avvicinare e te lo mostro da vicino. Quando aprite il tappo della benzina si fa in questo modo dovete stare attenti a tirarlo sempre tutto indietro perché se lo posizionate tutto indietro così lui resta dove deve stare e quindi vi permette di fare benzina in maniera molto agevole ma se poco poco vedete vi spostate qui guardate cosa succede c'è questione di un millimetro se non arrivate fino in fondo in maniera sicura e vi fermate qui la tendenza è quella a farlo richiudere questa cosa può capitare e capita spesso anche mentre si fa benzina si dà un piccolo scossone alla moto il tappo tende a richiudersi oppure semplicemente mentre vi state preparando per fare benzina avete aperto il tappo avete messo la moto sul centrale il tappo si richiude è tipico ed è un qualcosa anche in questo caso di molto fastidioso ogni volta che ci si ferma dal benzinaio questi sono quindi secondo me i difetti della nuova Himalayan 450 parliamo di difetti molto molto gestibili tollerabili per una moto che viene prezzata a partire da 5.900 euro ci sono moto ben più sofisticate della Himalayan che hanno difetti simili se non più gravi quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi se avete riscontrato questi difetti sulla vostra 450 o se questi difetti magari vi infastidiscono e vi porteranno a non acquistare l'Himalayan 450 almeno in questo momento sono curioso di sapere la vostra e quindi in ogni caso ci rivediamo in un prossimo video ma vi aspetto nei commenti per parlare dei difetti menzionati nel video e magari anche quelli che non ho menzionato dell'Himalayan 450 un saluto da Andrea e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti